Raggiunga il microfono Giuliano Olivati. Buongiorno a tutti. È una giornata magnifica. Siamo nella nostra famiglia, la famiglia degli agenti immobiliari professionali italiani e siamo qui per parlare del nostro futuro. Questo è splendido. Abbiamo sentito in tutto questo congresso che si tratta di un congresso di svolta, di un momento di svolta. Qualcuno dice epocale. Ecco, io credo che questa svolta debba riguardare anche il settore della comunicazione. Un miglioramento. Se sarò eletto chiederò al consiglio, al comitato esecutivo, di avere la delega della comunicazione. La squadra Baccarini, di cui mi onoro di far parte, ha nel suo motto la comunicazione. Costruire, condividere, comunicare. Comunicare è importantissimo e noi abbiamo di fronte una sfida. Comunicare al consumatore in che cosa noi agenti immobiliari professionali facciamo la differenza per lui. Qual è il vantaggio per lui di rivolgersi a noi? Poi abbiamo il dovere di comunicare agli agenti immobiliari, tutti, soprattutto a quelli che non sono FIAIP, ma anche ai nostri associati, che a volte magari tendono, anche per nostra colpa, a dimenticarlo. Dobbiamo comunicare in che cosa FIAIP fa la differenza per gli agenti immobiliari, in che cosa noi facciamo la differenza per loro. E terza cosa, che è il corollario, comunicare sempre al consumatore, cioè al nostro datore di lavoro, in che cosa l'agente immobiliare FIAIP fa la differenza rispetto all'agente immobiliare che non è FIAIP. Non è facile, anche perché noi viviamo un paradosso. L'agente immobiliare è per sua natura, anche se a volte non lo sa, un comunicatore. Pensateci, noi mettiamo in comunicazione, con uno sforzo quotidiano, immane due parti che sono in guerra, chi compra e chi vende, interessi contrapposti. Noi riusciamo miracolosamente a farli comunicare, a compendiare i loro interessi, a creare un compromesso, una mediazione, un contratto che alla fine soddisfa entrambi e entrambi ci ringraziano. Quando però dobbiamo parlare loro, parlare al consumatore, al nostro datore di lavoro, di noi, di cosa facciamo noi, della nostra fatica, siamo già stanchi. La giornata è passata, arriviamo a casa la nostra famiglia e poi domani si ricomincia, telefonate, appuntamenti, trattative, preliminari, accompagnamento a rogito. Rischiamo di non riuscire a parlare di noi. Ecco, noi dobbiamo parlare di noi. Oggi la comunicazione principe è quella del web, quella del nostro sito FIAIP. Abbiamo la fortuna di avere un sito molto bello, molto forte. Dobbiamo capire che i nostri interlocutori sono tre. Da una parte c'è la politica e la stampa e qui siamo già ottimamente rappresentati. Deve rimanere nella nostra home page, del nostro sito, una fortissima rimando, un fortissimo link all'archivio delle nostre grandi battaglie politiche. Dobbiamo però considerare che il nostro sito non è guardato soltanto da giornalisti e da politici, è guardato anche da persone normali che hanno il problema di comprare o vendere casa. Allora noi dobbiamo parlare al consumatore e al consumatore dobbiamo dire che cosa fa un agente immobiliare, notizie, informazioni sulla compravendita, notizie di mercato, anche qualche spunto, qualche curiosità per non essere troppo pallosi, come a volte si rischia di essere, e quindi invogliarlo, incoraggiarlo a venire sul nostro sito. Agli agenti immobiliari in un'apposita sezione dobbiamo dire che cosa fa FIAIP per loro e poi ci deve essere un rimando all'area MyFIAIP che verrà sicuramente razionalizzata. Ma la cosa importante, la cosa molto importante è che noi riusciamo a parlare anche attraverso per esempio degli strumenti potentissimi nella comunicazione come i video, c'è YouTube ma ci sono anche i video di Facebook che sono molto forti, di noi e quindi chi meglio di noi agenti immobiliari può fare, con un piano editoriale ovviamente, non in modo caotico, dei brevi video, video di uno o due minuti in cui gli agenti immobiliari di tutte le regioni d'Italia e tendenzialmente sul lungo periodo di tutte le province d'Italia, grandi e piccole, nord e sud insieme, aboliamo i punti cardinali, aboliamo il grande e piccolo, abbiamo tutti pari dignità e tutti pari qualità di proposta. Dicevo dei video in cui non un formatore che è un agente immobiliare fallito che insegna a noi come non diventare agenti immobiliari falliti, non un portale, non qualcuno che non ha mai fatto un appuntamento di vendita sotto la pioggia come noi, che non si è mai seduto a un tavolo del preliminare ma noi stessi spieghiamo chi siamo e che cosa facciamo e in che cosa facciamo la differenza. Questo abbiamo il dovere di farlo per riportare l'attenzione del consumatore su di noi e per far capire che il consumatore ha tutto l'interesse a rivolgersi a un agente immobiliare. Questa è la sfida del nostro futuro e lo dobbiamo fare tutti insieme, tutti quelli che sono qui e che rappresentano tutti, pensateci, tutti i nostri associati che stanno a casa e aspettano di avere notizie da questo congresso perché Fiaip è una e indivisibile e vive dello sforzo della lotta di tutti noi. Vi ringrazio.